Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, 15 marzo 2018. Ci sono un sacco di cose da raccontare oggi sui giornali che sono particolarmente divertenti e quindi insomma vediamo di non essere troppo lunghi. 15 marzo 2018, qual è la situazione sul governo e come si sta muovendo? La prima considerazione da fare è che cosa succede nel movimento del centro-destra che fino a prova contraria è la coalizione che ha preso più voti, il 37%. La sintesi è molto semplice da fare. La Lega ha detto, come dice Repubblica, prova di governo col Movimento 5 Stelle, ma la Lega che cosa ha detto? Ha detto che cerchiamo di fare un accordo con il Movimento 5 Stelle se non altro per la presidenza delle Camere e qualcuno sostiene anche per il governo. Questo è quello che dice il Movimento 5 Stelle. Intervista oggi dell'economista del Movimento 5 Stelle, Claudio Borghi, che peraltro conosco bene perché lavorava al giornale, dice che se ci mettiamo a un tavolo con quelli del Movimento 5 Stelle magari un accordo ce lo troviamo sul programma economico, beato lui. Dall'altra parte, mentre Salvini dice questa cosa, Berlusconi dice facciamo invece un accordo con il PD, che invece la Lega esclude su tutto il campo. Allora avete capito bene perché il centro-destra andrà a schiantarsi contro un muro e perché oggi il centro-destra sui giornali di tutta Italia viene considerata la coalizione perdente, perché già non si sono messi neanche d'accordo con chi devono parlare. Quindi Forza Italia dice col PD, Lega dice con il Movimento 5 Stelle frantumazione completa del centro-destra. Anche la sinistra, devo dire, non sta in buona forma. Oggi è incredibile Goffredo De Marchis su Repubblica, non Goffredo De Marchis, molto bravo Goffredo De Marchis, che pizzica calenda un convegno insieme a Prodi che cosa dice il ministro del sviluppo economico italiano? Che il Jobs Act è sbagliato! Allora a questo punto ci possono essere, nel giorno della morte di Hawkins, di cui tutti i giornali parlano, bellissimo il pezzo di zichichi oggi sul giornale, nel giorno della morte di Hawkins, se Calenda dice che il Jobs Act è sbagliato, troverete anche la zuppa di porro che inizierà a dire redistribuiamo il reddito e tassiamo all'80%. Cioè l'incoerenza mia è pari a quella di Calenda, se dicessi una cosa di questo tipo. Io la trovo incredibile. Così come incredibile, incredibile, nel centrodestra devastato, anche se non si può dire, nel PD in cui tutti parlano come se non ci fosse un passato, ma neanche un futuro, è anche incredibile quello che oggi scrive Verderami sul Corriere della Sera. State bene attenti. Il partito di onestà, onestà, quello che ci ha spiegato che non si possono fare accordi con nessuno e farà gli accordi con chiunque per governare. Bene, dice il Movimento 5 Stelle che hanno deciso che salta anche il vincolo del doppio mandato, quello per il quale non si possono fare più di due legislature. Cioè sostiene Verderami che per tenere unita e compatto il Movimento 5 Stelle, Di Maio abbia promesso ai suoi, ovviamente d'accordo con Casaleggio e i grandi capi del Movimento 5 Stelle, che è possibile adesso per un parlamentare del Movimento 5 Stelle fare anche un terzo mandato nell'ipotesi che si vada a votare entro un anno. Quindi quello che lo strillone del Movimento 5 Stelle, che si chiama Travaglio, sul fatto, ci aveva spiegato, cioè che loro sono duri e puri, e ci aveva raccontato in un fondo di qualche settimana fa che colui che voleva invece il terzo mandato, cioè un sindaco, se non sbaglio, di Pomezia, e lo voleva esattamente per quello che sta succedendo oggi a Di Maio, e cioè diceva, io ho fatto un pezzo piccolo di legislatura come sindaco di Pomezia e ne ho fatta una intera, non vedo perché non candidarmi la terza volta, posto che ne ho fatto due mandati interi. Bene, adesso questa regola viene cambiata, e allora vale tutto. E allora vale tutto, se salta anche il vincolo di mandato per la seconda volta, che è una regola che si sono dati loro, così come era saltato la questione della giustizia che si sono dati loro, gli avvisi di garanzia che si sono dati loro, vale tutto, vale tutto, beh, già si è visto quello che è valso per esempio per le Olimpiadi, che si possono fare a Torino ma non si possono fare a Roma. Mieli oggi fa un pezzo molto divertente sul Corriere della Sera in cui racconta tutti quelli che salgono sul sfotte Pasquino, sfotte Crocetta, Di Pietro, Cacciari, Ignazzi, insomma tutti quelli che dicono che si deve fare assolutamente un accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, quelli che si salgono sul carro dei vincitori, è azzeccato il titolo perché è il titolo appunto salita sul carro, bella devo dire anche tutta quanta la lista delle persone che sono salite sul carro, ovviamente come sempre nei pezzi di Mieli del tutto inconcludente, incomprensibile la conclusione perché Mieli alla fine non si riesce a capire che cosa dica, vabbè ha fatto una bella lista di persone che vanno sul carro dei vincitori ma non si capisce per niente qual è la sintesi poi finale. Sul reddito di cittadinanza vi segnalo due pezzi, quello che riguarda Grillo che l'hanno un po' tutti i giornali che dice ragazzi non è il reddito di cittadinanza, è il reddito di nascita, cioè lo devono avere tutti soltanto perché sono sul suolo italiano, mentre invece il Movimento 5 Stelle, diciamo forlanizzato, invece non lo vuole dare più a tutti perché costerebbe troppo e quindi lo lega al lavoro. Sono due redditi completamente diverse, come in un'intervista di De Masi oggi c'è scritto chiaramente, De Masi è per l'opzione Grillo, non per l'opzione Di Maio per intendersi, ma la cosa più straordinaria di oggi ragazzi, tenetevi forti, è la costamagna che sul giornale del Movimento 5 Stelle, sul fatto, oggi ci spiega come funziona bene e cose da sapere sul reddito di cittadinanza. Io vi dico soltanto, dovete sapere che il reddito di cittadinanza funziona in Finlandia, in Finlandia funziona, funziona da un anno, sono 560 euro e sapete per quante persone è stato attribuito? Per 2.000 persone. Funziona, queste 2.000 persone date a Finlandia, 2.000 persone vengono aiutate a 560 euro da qualsiasi comune italiano, purtroppo di medie dimensioni, ma la cosa più straordinaria che ci spiega la costamagna, per fortuna, oltre al fatto che funziona in Finlandia il reddito di cittadinanza, è che adesso, siccome gli hanno dato 560 euro a meno di 2.000 disoccupati, c'è meno ansia e quindi c'è meno spesa pubblica per la sanità. Questo c'è scritto nel pezzo di oggi. Meno ansia, meno spesa pubblica per la sanità e poi un grande riconoscimento al valore delle istituzioni. Non vedo l'ora che arrivi in Italia perché così avremo anche noi una situazione finlandese. Riguardo alle questioni italiane, Sallusti se la prende con i giudici e ha ragione su due questioni incredibili. La prima è quella del centro polifunzionale di Norcia in cui un giudice ha sequestrato quel centro perché non c'è mazzetta, non c'è nulla, semplicemente perché ci sono delle regole che non sono state rispettate. Ma se le regole le facciamo per noi stessi, per la tutela di noi stessi, se si fa un centro polifunzionale con i soldi dei cittadini per far rivivere un posto che è danneggiato dal terremoto, ma ci vuole il buonsenso in un paese normale. In Italia quando si parla di leggi non c'è mai il buonsenso e così come il buonsenso ci fa pensare che tutta questa trick e track del giudice costituzionale Zanon che vede la sua auto usata anche dai parenti, quindi c'è un'inchiesta di un PM perpeculato e poi lui si dimette e poi la corte invece non accetta le sue dimensioni, è un trick e track disgustoso. Ma una cosa mi viene da ridere, perché in uno di quei libri da dietro, cioè il libro che ricorda la scorta di Moro uccisa, è straordinario vedere come soltanto 40 anni fa, purtroppo le scorte, vabbè è una storia tragica come voi ben sapete anche perché in questo periodo si celebrano quelli che hanno ucciso e non quelli che sono morti, ma questo è un altro dettaglio, oggi Mario Aiello ne parla sul Messaggero, la cosa incredibile è che quelle scorte in realtà nel passato Moro utilizzava le macchine per portare i bambini a scuola, alla moglie, cioè nel passato si poteva fare, evidentemente oggi no, quello che mi diverte è il trick e track ovviamente su dimissioni e non dimissioni, stupenda la storia, il giallo di Londra per le spie russe uccise doppio giochiste, su questo però soltanto una considerazione bisogna fare, che qualche giornale mette in evidenza come Movimento 5 Stelle e Lega, anche su questo sono d'accordo perché non sono tra i colpevolisti, però fanno abbastanza bene non esserlo se mi posso permettere, perché insomma se questo porterà, dovesse portare a degli inasprimenti nei confronti delle sanzioni nella Russia che già ci fanno malissimo, insomma loro su questo sono molto poco d'accordo e poi qualche retroscena oggi diceva che anche la Francia di Macron in questo non è più come un tempo, dura contro la Russia. Ultima questione riguarda Robert Fico che non è un giocatore di calcio ma è il premier della Slovacchia che si è dimesso a metà un po' come Zanon per i legami pare di quel governo nei confronti dell'Andrangheta e di un tremendo omicidio di un giornalista con le palle che cercava di capire cosa stava succedendo in quel paese. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, questa sera a Matrix ci vediamo in radio e come purtroppo avviene da mesi abbiamo grandissimi ascolti o grandissimi ascolti per la zuppa di Porro, molto meno rich, cioè sostanzialmente il nuovo algoritmo di Facebook, cosa fa? Non diffonde come prima la zuppa, quindi potete farlo solo voi condividendola e se vi è piaciuta condividetela che è il modo migliore per far assaggiare a tutti questo cibro che non è macrobiotico. Ciao!